Buonanotte Signor Mortara, suo figlio Edigardo è stato battezzato con l'ordine di prenderlo Cosa? Ma prenderlo in che senso? Portarlo via Ma io lo portavo in cielo via! Tutto è stato fatto in piena regola Ma! Il grado! Secondo il diritto canonico Mi toglieranno la testa papà Ti faranno niente Si può perdere tutto Ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue Questo creerà nuove attenzioni Io sono il papa Ma solo a Dio devo rispondere La storia è andata su tutti i giornali Ha fatto il giro del mondo È arrivata fine in America Suo figlio non è più ebreo, signora È cristiano Il figlio è ebreo! Hai battezzato mio figlio? Hai battezzato mio figlio? Vai, mio figlio! Vai, mi sentire! Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma Questa è la tua famiglia adesso Grazie a tutti! La sua famiglia è un sacco di franche Il figlio è il nostro corso Il figlio è il nostro corso Lo so molto molto è il nostro corso L'è il figlio è il nostro corso E il figlio è il nostro corso